Resteranno in carcere i pusher finiti in manette nel corso della maxiretata al parco del Colle del Pionta. Il Tribunale del Riesama ha infatti respinto la richiesta di rimettere in libertà 11 dei 31 arrestati, quasi tutti difesi dall'avvocato Alessandro Mori. Il legal aveva puntato sullo spaccio per lieve entità. Il GIP del Tribunale di Arezzo per Giorgio Ponticelli, nella sua ordinanza di custodia cautelare in carcere, aveva invece sottolineato come ci fossero aspetti che non potevano rientrare nell'ambito della modica quantità, ossia il quinto comma. Tra gli spacciatori infatti ci sarebbe stato un sistema di mutuo soccorso, una condivisione di nascondigli e addirittura una collaborazione nella gestione dei clienti. Adesso anche i giudici fiorentini hanno sposato in pieno la linea della procura di Arezzo e del giudice. Dietro alle cessioni, seppur piccole, ci sarebbe stata dunque un'attività strutturata, organizzata e soprattutto continuativa. La vasta operazione Domo Vecchio risale allo scorso maggio, quando a conclusione di una lunga attività investigativa, diretta dalla procura di Arezzo e portata avanti dalla squadra mobile dallo SCO, con il supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroghe della Scientifica, finirono in manette più di 30 spacciatori. Un'operazione che si era conclusa con lo spettacolare blitz al pionta, con tanto di elicottero e unità cinofile che aveva assestato un duro colpo allo spaccio nelle zone calde della città di Arezzo.